Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento quanto mai attuale, il jet lag. Chiunque si appresti a prendere un aereo per raggiungere destinazioni internazionali o, meglio ancora, intercontinentali, si sarà già iniziato a fare due conti su questo problema. Quindi oggi parliamo di che cos'è il jet lag e come lo si può risolvere. Innanzitutto ricordate di chiamarlo correttamente, jet lag, non leg, perché i jet non hanno gambe. Quindi il jet lag è quella condizione fisiologica che noi accusiamo ogni qualvolta viaggiamo da un fuso orario ad un altro, soprattutto quando viaggiamo attraversando molteplici fusi orari, e ci dà quella sensazione fisiologica di stanchezza, spossatezza che adesso vedremo. Iniziamo col chiarire il perché esiste questo fenomeno e per farlo dobbiamo chiamare in causa l'astronomia e un po' di fisiologia. A livello astronomico sappiamo che il nostro pianeta è una sfera, che che ne dicano alcune persone. Questa sfera, oltre a compiere una rotazione attorno al Sole, che è un moto chiamato di rivoluzione che determina l'esistenza dell'anno, compie anche un moto di rotazione attorno al proprio asse che impiega 24 ore e determina l'esistenza del giorno e della notte. Costantemente sulla Terra esistono zone illuminate dal Sole e zone non illuminate dal Sole, che vivono appunto nell'ombra della Terra stessa. Quindi le zone in cui ci sarà il Sole ovviamente saranno le zone illuminate direttamente dalla nostra stella, mentre le zone esattamente opposte a questa zona di cui vi ho appena parlato ovviamente si trovano nell'ombra della Terra. Quindi, tolta la visione del Sole dei Teletubbies che va a dormire, parliamo appunto del perché esistono infusi orari. Bene, per fare questo immaginiamo il Sole a mezzogiorno sull'Italia. In questo caso, ovviamente salvo le dovute approssimazioni del caso, dovute alle stagioni, il Sole a mezzogiorno si trova nel punto più alto della volta celeste. Ripeto, è un'approssimazione. Cosa succede però ad esempio in Russia e cosa succede in Portogallo? Bene, se noi immaginiamo la Terra e immaginiamo il Sole praticamente in direzione dell'Italia, ovviamente in Portogallo avremo un Sole più basso e più basso verso est. E questo è facile da comprendere grazie a questa immagine. In Russia, invece, il Sole apparirà più basso ma apparirà più basso verso ovest e questo ha portato gli uomini a creare i fusi orari. Quindi i fusi orari sono qualcosa di artificiale, non sono qualcosa di naturale. È una cosa che ha inventato l'uomo per standardizzare gli orari. Sarebbe stato strano infatti dire a mezzogiorno in Italia c'è il Sole mentre a mezzogiorno sempre di un ipotetico orario universale esattamente dall'altra parte della Terra si sta dormendo. Quindi per uniformare un po' la giornata si sono creati i fusi orari. In questo modo si è diviso il pianeta in 24 fusi. Questi fusi sono più o meno disposti in maniera uniforme ma più propriamente seguono l'andamento dei confini politici degli Stati. Questo perché sarebbe stato impensabile dividere uno Stato a metà con due fusi che passano magari in mezzo a una città, quindi metà città in un fuso a metà e nell'altra. Quindi si seguono i confini nazionali salvo per grossi paesi come ad esempio la Russia o gli Stati Uniti in cui i fusi seguono l'andamento di regioni o di stati come nel caso degli Stati Uniti. Bene, questa era la valutazione astronomica che volevamo fare. Adesso facciamo una valutazione fisiologica. Il corpo umano tra le varie funzioni vitali che ha possiede il sonno. Il sonno è un qualcosa di molto importante per il corpo umano. Serve per dargli ristoro e per una serie di questioni mediche che non vado qui ad approfondire. Sappiate che privarsi del sonno vi creerà inizialmente irrascibilità, poi fenomeni più preoccupanti a livello psicologico e psichiatrico e poi vi potrebbe condurre alla morte se vi private esageratamente del sonno. Quindi il sonno è importantissimo. È importantissimo per noi, è importantissimo anche per altre forme di vita. La cosa importante è che il sonno si basa su un fenomeno, su un ciclo, che si chiama ciclo circadiano. Questo ciclo è regolato per lo più sulla luce solare. Quindi quando noi vediamo la luce solare siamo svegli. Quando invece non la vediamo, quindi nel caso della notte, ci inizia avvenire una certa sonnolenza e questo lo sappiamo. Questo ciclo circadiano può essere modificato sia a livello chimico, diciamo farmaceutico, che a livello fisiologico. Pensate a chi lavora di notte. Questo ciclo circadiano però è importante che venga mantenuto bene perché il corpo cercherà di dormire sempre negli orari notturni e di rimanere sveglio negli orari diurni. Ora uniamo le due cose, astronomia e fisiologia. Questi cicli circadiani, essendo correlati alla luce del Sole, nel momento in cui noi rimaniamo sempre nello stesso punto della Terra non abbiamo grosse variazioni. Ma se prendiamo un aereo e ci spostiamo, quindi in un intervallo di tempo relativamente breve, non diamo il tempo al corpo di abituarsi al nuovo fuso orario, per cui l'orologio biologico sarà quello, ad esempio, italiano, mentre noi saremo negli Stati Uniti. E negli Stati Uniti l'orologio in vigore è quello degli Stati Uniti, che porta un fuso orario con addizione di 6-9 ore. Ecco, proprio questo è il problema. Il corpo è settato per addormentarsi ad esempio a mezzanotte e svegliarsi ad esempio alle 8, però a mezzanotte alle 8 dell'Italia. Quando noi andiamo negli Stati Uniti questi orari non combaciano più, per cui avremo una certa discrepanza fra l'orologio interno e quello reale del posto. Questo è proprio quello che conduce poi al fenomeno del jet lag. Infatti i fenomeni che poi avremo saranno innanzitutto una sonnolenza, e questo è prevedibile. Però avremo anche altri fenomeni, come ad esempio mal di testa, stanchezza, spossatezza e nei casi più gravi anche scordinazione motoria, quindi saremo impacciati nei movimenti e anche nell'elloquio, quindi nel parlare e addirittura potremmo avere sonnolenza in situazioni che assolutamente richiedono di essere vigili al 100%, come ad esempio alla guida di un veicolo o nel prendere decisioni molto importanti. Come si fa a sconfiggere questo problema? Allora innanzitutto è necessario capire che il problema non sparirà il giorno dopo che siete arrivati, ma avrà bisogno di un po' di tempo, quindi dovrete risettare il vostro orologio e questo porterà via qualche giorno. La cosa importante da dire fin da subito è che dobbiamo discriminare il viaggio, se il viaggio viene fatto verso est oppure verso ovest. E infatti le due cose cambiano. I viaggi verso est sono generalmente quelli più problematici, mentre quelli verso ovest sono i più semplici da affrontare. Questo perché quando ci spostiamo verso ovest comunque dobbiamo mandare indietro l'orologio, quindi è più semplice diciamo aspettare un attimo e procrastinare l'orario di andare a dormire per settarsi velocemente sull'orario del luogo. Ma come possiamo fare a sconfiggere il jet lag? Le prime mosse si fanno già prima di partire e infatti prima di partire è necessario ridurre tutti gli stress, ad esempio gli stress banali tipo arrabbiarsi o cose di questo tipo, avere insomma mille pensieri per la testa o dimenticato quello, la valigia, il passaporto, quindi preparare tutto per tempo in modo tale da non arrivare praticamente nelle ore prima della partenza con tante preoccupazioni perché questo non aiuta affatto, anzi diventa un problema proprio per l'affrontare questo jet lag. Se andate verso ovest dovrete iniziare già dall'Italia, insomma già da prima di partire, ad andare a dormire lievemente più tardi, una, due, tre ore più tardi, in modo tale da iniziare a rifasare già da qui l'orologio biologico, in modo tale da arrivare più preparati. Il contrario naturalmente se viaggiate verso est, quindi se viaggiate verso est andate a dormire un po' prima e cosa molto importante dormite bene, dormite rilassati, quindi non fate sonnellini, fate dei bei sonni pieni. Vi sconsiglio di assumere le seguenti sostanze sia poco prima della partenza, assolutamente vietate durante il volo e nei giorni successivi al volo appunto, quindi nei due giorni successivi al volo. Queste sostanze possono sembrare strane ma vi posso garantire che non assumere queste sostanze vi aiuterà e queste sostanze sono alcolici, assolutamente vietati, il caffè, il tè oppure anche i sonniferi perché magari qualcuno pensa mi sveglio, mi prendo un bel caffè così mi aiuto, invece no perché ricordatevi che l'assumere sostanze di questo tipo non è che vi sta aiutando, non vi fa saper niente l'orologio, vi dà solo una sensazione effimera, quindi non vi aiuta paradossalmente. Ugualmente i sonniferi, non assumete farmaci per il jet lag, non fatelo perché assolutamente non è utile, tranne ovviamente se non vi sia stato prescritto da un medico. Ultimo consiglio, appena arrivati adattatevi istantaneamente agli orari del luogo, mi spiego, se arrivate nel pomeriggio del posto che insomma state visitando non andate a dormire presto o troppo tardi insomma nella notte, andate a dormire all'orario esatto per quel luogo. Ecco, questo ultimo consiglio vi aiuta tantissimo a settare rapidamente l'orologio su quello del luogo. Bene, questa era la ragione per cui esiste questo jet lag e qualche consiglio per affrontarlo al meglio. Personalmente vi ho detto tutto quello che sapevo anche un po' per la mia esperienza e dunque vi auguro buone vacanze soprattutto per chi andrà all'estero e andrà lontano, così lontano da dover avere questo problema. Bene, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace, se avete dei dubbi, dei suggerimenti o delle domande da pormi vi invito a scriverle nei commenti. Come sempre vi invito anche a condividere il video con i vostri amici soprattutto per chi sapete, insomma, si debba spostare all'estero. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video.